44esima edizione di un evento che traccia la storia di una città basata su un'economia molto importante che è quella proprio dell'artigianato Figulo. Da quattro anni che abbiamo rivisto questo format dando quelli che sono gli ingredienti che richiede il mercato e il turista sul nostro territorio. Quindi abbiamo rivisitato questa mostra facendola diventare una mostra diffusa all'interno del borgo, un bellissimo borgo che conserva Cutrofiano, al quale abbiamo aggiunto tutti quelli che sono gli elementi che il visitatore cerca. Quindi abbiamo aggiunto alla ceramica la musica, l'intrattenimento, soprattutto con gruppi locali che proprio rivisitano quelle che sono le tracce delle tradizioni musicali del nostro territorio. E in più abbiamo aggiunto tutti quelli che sono anche i sapori del nostro territorio. Quindi abbiamo unito all'artigianato Figulo molto importante della città altri ingredienti che creano attenzione al visitatore. È una mostra che si contamina con altri eventi presenti nella città stessa. Il 16 è in occasione anche della festa del San Rocco, quindi ci sarà oltre alla mostra questa festa importante che per loro ha una tradizione anche storica, dove ci sarà anche un artista importante che è Mietta, quindi un artista che rientra nel panorama nazionale della musica italiana. Il 22 in modo particolare ci sarà presente anche la Notte della Tappa e la Taranta, dove l'anno scorso abbiamo registrato più di 20.000 presenze solo per la Notte della Tappa e la Taranta. che si è contaminata benissimo con la nostra manifestazione. Quindi invito tutti a venire dieci sere dove oltre a vedere questa bella tradizione dell'artigianato Figulo di Cutrofiano, potete godervi una città che merita tanto ed offre tanto. Ci ritroviamo anche quest'anno per parlare della mostra della ceramica artigianale di Cutrofiano che è giunta alla sua 44esima edizione. Come ogni anno verranno riproposte delle novità che ci caratterizzano rispetto agli anni precedenti. Una fra tutte è il restaurato Museo della ceramica, appunto, il quale è stato riportato completamente a nuovo con una veste modernissima e all'interno del quale si potrà fare un percorso che va dagli oggetti presenti che risalgono dai tempi del preistorico sino alle ceramiche dei giorni nostri. Un'altra novità importantissima di quest'anno è riferita alla proposta di gemellaggio che ci verrà fatta durante la mostra dal signor Gonzales il quale porterà appunto una proposta di gemellaggio con il paese di Ghelves in Siviglia un paese rinomato anch'esso per la produzione della ceramica artistica e con il quale quindi stringeremo un patto di gemellaggio. Per ultimo è stato sempre all'interno dell'ambito della mostra del manifatturiero è stato avviato un percorso di studio circa le aziende presenti sul nostro territorio attraverso l'osservatore economico che prossimamente ha effettuato uno studio e verrà pubblicato il risultato di questo studio che io mi permetto di anticipare almeno stando ai numeri dovrebbe risultare molto positivo in quanto dimostrano una inversione di tendenza rispetto alla stagnazione economica che è risultata negli ultimi anni e quindi con una lieve ripresa con l'apertura di nuove aziende. Con questa 44esima edizione della mostra ceramica abbiamo voluto dare salto al rinnovato museo della ceramica dove ci sono esposte reperti dell'era pre-stoica soprattutto comunque mediovale del 6-7-800 fino ai nostri giorni di tutti i tipi di ceramica è disposta su due piani in parte nel vecchio museo in parte in un'anala del ristrutturato Palazzo Ducale inoltre presenteremo anche due libri riguardanti sempre Currofiano e non solo uno del professor Stefano Margiotta riguardante i tinerari del Salento dove parleremo del Parco dei Fossi un altro Vite sbandate è il brigantaggio nel Salento di Ivan Ferrari che riguarda anche le fasi di brigantaggio di Currofiano oltre che nel Salento in particolare.